Una persona serena e forte, nonostante il dramma di cui è stata vittima. Un esempio di riscatto contro la violenza sulle donne. Lucia Annibali, l'avvocato pesarese sfigurata con l'acido dall'ex affidanzato, ha ricevuto stamane in provincia il premio Pierangelo Aventurini, istituito dall'ente di Piazzale della Pace in occasione dell'8 marzo. La mia energia viene da me, dal desiderio di stare bene, vivere bene, guarire il meglio possibile, poi dalle persone che ho vicino, intorno, che mi aiutano, familiari, amici, medici, tutti. L'amore è tante cose, l'amore per se stessi, per le persone che si hanno vicino, anche l'amore per la vita, per la positività, ci vuole la positività. Attraverso questo premio prosegue, per così dire, il legame con Parma? Beh, prosegue, anche perché comunque, devo ancora concludere gli interventi, quindi prosegue, però si è creato questo legame veramente molto intenso, molto sincero con le persone che ci sono qui, ho degli affetti molto importanti ormai qui a Parma, quindi torno anche per ritrovare loro. Il premio è stato consegnato anche al magistrato della procura di Parma, Lucia Russo, impegnata da tempo sul fronte della violenza contro le donne. Devo dire, con un certo sconforto, che proprio dopo l'aggressione Lucia Annibeli, se da un lato noi abbiamo registrato, vuole dire, una grande solidarietà e un grande affetto nei confronti di questa donna assolutamente straordinaria, dall'altro lato, dal mio osservatorio, devo riscontrare che sempre più spesso mi arrivano denunce di donne vittime di maltrattamenti e di stalking, che lamentano di essere state minacciate dagli ex compagni o dai mariti maltrattanti con la frase «ti rovino con l'acido». E quindi questo ci induce a ritenere che purtroppo la capacità emulativa delle persone voglio dire, tragga spesso spunto, diciamo, dalle condotte più abiette degli esseri umani. Premiata anche la commerciante parmigiana Sonia Soncini, proprietaria di una latteria in via Imbriani, luogo divenuto punto di riferimento per l'intero quartiere oltretorrente. Lì, ad esempio, molti bambini trovano accoglienza per fare i compiti scolastici nel pomeriggio, in assenza dei genitori.